Chiede l'intervento del prefetto con una diffida all'Associazione per la tutela di San Vittorino Amiterno che tramite il loro legale Fausto Corti evidenzia come il comune di Pizzoli abbia deciso di non intervenire neanche dopo l'ultima perizia del consulente tecnico della procura in merito al poligono di tiro della frazione che ha evidenziato, dicono degli abusi edilizi, la storia è vecchia, non è un capriccio per gli abitanti la struttura, detto Corti, arreca disturbo alla loro vita quotidiana il poligono è stato costruito in base a questa perizia in maniera difforme e basta prendere la planimetria con la foto aerea e confrontarle Gli altri documenti sono un'ulteriore perizia del consulente della procura che ha accertato che ulteriori abusi nella costruzione del poligono che riguardano sia la violazione dell'autorizzazione paesaggistica sia soprattutto la violazione della normativa sismica perché la struttura in cui sono posti gli uffici del poligono è stata realizzata senza la richiesta del nulla osto al genio civile questi si aggiungono agli abusi che erano già stati accertati dalla procura che riguardano sia la difformità integrale dell'intero progetto che è stato realizzato, traslato di posizioni con dimensioni superiori sia il fatto che lì, trattandosi di un terreno con destinazione agricola un poligono non poteva essere realizzato noi abbiamo segnalato questi abusi al comune di Pizzoli il quale ha l'obbligo per legge di intervenire ha compiti di polizia edilizia e deve reprimere gli abusi il comune di Pizzoli, seraficamente il sindaco che è fra l'altro anche responsabile del settore polizia edilizia ci ha detto che lui non intende prendere provvedimenti che per lui sta tutto a posto visto che in realtà la repressione degli eliciti edilizzi è un atto dovuto, doveroso a cui nessun comune può sottrarsi e quindi si tratta di un obbligo di legge a nostro avviso questo rifiuto da parte del sindaco di Pizzoli di provvedere anche di andare ad accertare semplicemente queste cose costituisce un vero e proprio atto di insubordinazione rispetto all'ordinamento repubblicano e quindi noi chiederemo l'intervento del prefetto affinché verifichi quali provvedimenti assumere per ricondurre l'azione dell'amministrazione comune di Pizzoli al rispetto della legalità